L'associazione musicale Claudio Monteverdi di Sermide, con la collaborazione della Proloco di Sermidiana Magazine, Multisala Capital e Studio Geogra, ci ha fatto fare un salto indietro di quasi un secolo. Da una brillante idea è stato costruito uno spettacolo piacevole dal titolo Come ridevano, come sognavano, il caffè Shantan, come si usava negli anni venti. I protagonisti e molte comparse hanno indossato abiti e acconciature ispirati allo stile del primo novecento. Lo spettacolo, previsto in piazzetta Gonzaga, è stato allestito in fretta nella sala blu del Capitol per evitare le insidie del tempo, limitando la spettacolarità che avrebbe avuto. Sono state proiettate comiche mute degli anni venti con il commento musicale del duo Jacopo Salieri-Pianoforte e Fausto Negrelli-Batteria, che hanno dimostrato grande professionalità e una intesa perfetta nel compito non facile di commentare le scene con continui cambi di ritmo e di stile. Siparietti teatrali di autori dell'epoca sono stati interpretati dai bravi attori e attrici della compagnia La Zattera di Concordia. La voce delicata e calda di Lisa Chierregatti ha regalato due intervalli musicali con le romantiche canzoni anni venti. Per l'Associazione Musicale Monteverdi e i suoi sponsor un risultato positivo, uno spettacolo originale in parte sacrificato dall'imprevisto spostamento che il pubblico ha molto gradito e che meriterebbe essere ripreso in sede idonea per la gioia di tanti spettatori.